Tre anni di impegno corale per contrastare il Covid, la pandemia che in provincia di Belluno, nel territorio di competenza dell'Uls 1 Dolomiti, ha picchiato duro. Oltre 87.000 i casi confermati, 881 i morti, quasi 1.700.000 tamponi frantigenici e molecolari, oltre 470.000 dosi di vaccino somministrate, 34 mesi di lavoro e relative evidenze scientifiche oggi sono la base del piano PANFLU, il piano di risposta alle emergenze pandemiche approvato e adottato dall'azienda sanitaria bellunese. Il piano si chiama PANFLU perché la pandemia principale per la quale ci si deve preparare a rispondere è la pandemia influenzale. Spiega il dottor Sandro Cinquetti che l'influenza ogni tanto si presenta in forma pandemica, come la spagnola nell'immediato dopoguerra o l'asiatica dell'inverno 2009-2010, ma non è solo l'influenza che può manifestarsi in questo modo, accade anche con altri virus e il SARS-CoV-2 ha fatto scuola. La grande esperienza di contrasto al Covid ci ha consentito di mettere a punto strategie, programmi efficaci, anche facendo tesoro di qualche imprecisione e di attività che potevano essere migliorate. Il piano PANFLU dell'Uls Dolomiti, articolato in 2013, macro aree, tocca tutti gli aspetti della risposta pandemica, dalle attività di prevenzione alla presa in carico ospedaliera dei pazienti, al miglioramento dell'assistenza territoriale, alla formazione degli operatori, alla comunicazione. Fondamentale il rapporto con e fra istituzioni. L'abbiamo visto col Covid, solo con l'impegno di tutti, dei comuni, della protezione civile, delle forze dell'ordine, del volontariato, solo con l'impegno di tutti si riesce a far fronte ad eventi di questo genere. Siamo quindi pronti per ciò che speriamo non debba accadere mai.